Sono tre verbi molto importanti, molto d'impatto. C'è una citazione di Darjean che dice vivere aiuta a non morire. Ed è vero, perché bisogna vivere ogni secondo della propria vita godendo di ogni cosa bella che dà. Odie è sicuramente legato alla cosa più importante per me che è la musica, che è la cosa più importante della mia vita. E ballare è qualcosa che associo alla libertà d'espressione, alla leggerezza, che a volte serve anche quella nella vita. Io tendenzialmente cerco sempre di incontrarli in studio per conoscere gli artisti, per creare anche una sintonia umana, per poi passare alla musica, quindi anche con tutte le collaborazioni che ho fatto da Gazzelle, Car Brave. Comunque ci siamo prima visti, conosciuti, e poi abbiamo scritto, fatto musica, che poi anche quello è il bello, è lo scambio continuo che c'è di vibe, di energie. Sicuramente sono molto attenta al dettaglio, mi piace curare tutto a 860 gradi nel mio progetto, sono molto puntigliosa. però sicuramente sono due caratteristiche che mi appartengono e mi ci rivedo tanto.